la sensazione diffusa è che la vera trattativa aperta inevitabile tra centrodestra e centrosinistra inizierà quando il cavaliere ritirerà la sua candidatura o deciderà di non presentarla proprio in quel momento si cercherà un nome condiviso guai giudiziari quali guai tutte le vicende di berlusconi sono finite con una soluzione e sull'unica sentenza passata ingiudicato è acceso il faro della corte europea dei diritti dell'uomo per antonio tayani vicepresidente di fi non ci sono ostacoli alla corsa di silvio berlusconi al colle il gruppo misto dice in una intervista a repubblica sarà determinante li abbiamo già contattati dalla quarta votazione possiamo farcela qui un rapido ripasso delle regole per eleggere il successore di sergio mattarella ufficialmente spiega tayani la decisione verrà presa fra qualche giorno quando ci sarà il vertice del centrodestra per noi è il miglior candidato possibile non è divisivo come dice la sinistra ogni presidente ha una sua storia pensiamo a mattarella che è stato un autorevole rappresentante della sinistra dc prima di salire al colle berlusconi ha presieduto vari governi ha collaborato con conte dall'opposizione ha sostenuto l'unità nazionale con draghi ha dato ampie dimostrazioni di essere un uomo di stato ha fatto stringere la mano a busce e putin col quale si è sentito l'altro giorno e che di recente ne ha ricordato il ruolo per rendere meno tesi rapporti tra oriente e occidente per non dire dell'impegno sulla questione energetica causa del caro bollette per cercare di dividere la russia dalla cina osserva quanto alla presunta freddezza di meloni e salvini tayani osserva hanno entrambi già detto che lo appoggeranno lealmente io mi fido il centrodestra sarà coeso che è un folto gruppo di parlamentari quelli del misto che non stanno in alcun partito e saranno decisivi sono in contatto con i nostri parlamentari e dirigenti ne abbiamo un numero piuttosto consistente poi parleremo anche con renzi dalla quarta votazione possiamo farcela assicura certo è che se tutti i deputati e senatori del misto votassero per lui berlusconi i numeri li avrebbe ma è uno scenario poco probabile ci sarà la solita frammentazione e nessun fronte compatto per berlusconi fuori dal centrodestra la partita per il quirinale non può essere slegata da quella sul governo nota riccardo ricciardi vicepresidente m5s le forze devono sancire un patto che garantisca la stabilità deve essere un accordo che porti a un'elezione celere non possiamo permetterci lo spettacolo di un parlamento incapace di eleggere un capo dello stato per molte sedute di seguito la gente non capirebbe su berlusconi non ci sarà mai un accordo ampio berlusconi mai avrà i voti di pdo m5s per salire al colle